Il Milan conquista la semipinale della Coppa Italia. Nella gara dei quarti ad eliminazione diretta disputata allo stadio San Siro di Milano, la formazione rossonera di Sisa Mihajlovic batte per 2-1 il Carbi. Le reti con Bacca al 14esimo minuto del primo tempo, il raddoppio poco prima della mezz'ora. Nel corso del secondo tempo il Carbi accorcia le distanze con Mancosu e nelle finale sfiora il 2-2. I rossoneri affronteranno la vincente di Spezia-Alessandra. Gli altri quarti di finale sono in programma la prossima settimana con queste date. Il 18 gennaio Spezia-Alessandria, il 19 Napoli-Inter al San Paolo e il 20 all'Olimpico Lazio-Juventus.